E' finalmente iniziata l'era Conte a Napoli con il raduno svolto sia a Castelvolturno. Domani invece ci sarà la partenza per il ritiro di Di Maro dove la squadra inizierà i lavori per la nuova stagione. Prima della partenza per il Trentino, tanti sono i tifosi che si sono regati al centro sportivo per vedere il nuovo allenatore all'opera. Conte è stato accolto da tantissimi applausi, segni evidenti di come la scelta di ADL di chiamare il tecnico Salentino abbia avuto i suoi effetti, facendo dimenticare la pessima stagione dell'anno scorso. Tre sorrisi in campo, però Conte deve risolvere alcune grane non di poco conto. Il suo arrivo a Napoli certamente poteva essere più sereno, ma adesso c'è bisogno di ricucire alcune ferite aperte. La prima riguarda Di Lorenzo, con il calciatore che aveva chiesto la cessione dopo un brutto faccia a faccia con Manna, dove certamente la verità si trova nel mezzo. Conte vuol mediare, vuol trattenere il calciatore, in quanto si sposa perfettamente con la propria idea di calcio. Trattenerlo significherebbe avere un acquisto non di poco conto in rosa. Altra grana riguarda Kvara. Il calciatore georgiano, nonostante abbia più volte sottolineato il proprio amore per Napoli, sembra voler andare via. Sicuramente c'è la zampina del suo entourage, con il padre impegnato a rilasciare alcune interviste fuori dall'Italia, volto a destabilizzare la formazione azzurra internamente. Conte è stato categorico. Il suo arrivo a Napoli è avvenuto anche per la presenza del calciatore georgiano. Un'arma non di poco conto. Kvara ha alzato le pretese per il rinnovo, spingendosi alla cifra di 8 milioni per rinnovare con gli azzurri. ADL ne offre 5,5, che sicuramente si tratta di una cifra importante rispetto agli attuali 1,8. Fatto sta che Napoli si fa forte degli anni di contratto che lega Kvara a Napoli. Il calciatore ha adesso due scelte, o accettare l'offerta di rinnovo, o rimanere alla cifra attuale, in attesa di essere venduto, rimanendo però a disposizione del tecnico. Sicuramente si vuol trovare una quadra tra le parti, anche perché Kvara deve essere pronto mentalmente per vivere una stagione a Napoli. Ma il pugno di ferro serve anche per mostrare i muscoli visti i continui ricatti dei procuratori, i quali a volte perdono il senso della realtà. In ultimo c'è la situazione Osimen. Il calciatore nigeriano vuole andare via, il Napoli vuole accontentarlo, ma le offerte adatte non arrivano ancora. L'obiettivo è di venderlo entro metà luglio e il Napoli magari deve abbassare un po' le proprie pretese per vedere il calciatore partire. La sua vendita serve a far cassa con la maggior parte del denaro da investire sul calciomercato.